A Pescara, Roma si farà così, Marco Marsilio, dopo la notizia del dirottamento dei fondi da parte del Ministero su altre opere, PD e Movimento 5 Stelle incalzano il governatore solo propaganda. Castel di Sangro in festa per il Napoli, i campioni d'Italia, da oggi in Abruzzo per la seconda parte del ritiro precampionato, la diretta dal centro abruzzese, Goletta Verde promuove mari e laghi del Molise, criticità superate anche alle foci dei fiumi Trigno e Sinarca. Colpo flash al Bar Europa di Campobasso, ladri messi in fuga dai proprietari della nota attività, accoglierà senza tetto ed emarginati la villa di Via Tavo a Pescara, sequestrata alla criminalità. Illustrati i risultati di spazio lavoro futuro dedicato ai soggetti svantaggiati, circa 60 i beneficiari inseriti in aziende della provincia di Teramo e infine lo sport il calcio e i gol del super bomber Corvino per portare il Campobasso in Lega Pro Misernia e il consulente di Mercato Silvestri, squadra ambiziosa, confermato cascio, arriva l'argentino Ivan Regner. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso, tante notizie nel telegiornale. Il Napoli, campione d'Italia, è arrivato nel ritiro di Castellisangro. Tra un minuto andremo a Castellisangro dove in diretta con noi ci sarà Nicola De Santis. Prima però parliamo di trasporti, parliamo del raddoppio ferroviario della Pescara Roma. Come saprete il Ministero delle Infrastrutture ha deciso di dirottare i fondi su altre infrastrutture. In furia la polemica il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio assicura l'opera si farà ma l'opposizione. Parla di propaganda. Sentiamo tutto da Stefania Potenti. La Roma Pescara si farà. Il governatore Marco Marsilio lo ha precisato subito dopo la notizia shock trapelata al termine della cabina di regia di Palazzo Chigi che ha cancellato progetti per 16 miliardi. Il Ministero per le Infrastrutture ha cambiato la strategia ma l'opera verrà comunque finanziata con altri fondi. Ci sono tempistiche diverse ma si farà, ha detto al convegno di Confindustria-Urtona. Il Ministero in realtà ha spiegato che i ritardi nell'iter relativo all'infrastruttura avevano obbligato a rimodulare i finanziamenti. Una scelta, la precisazione di Roma, figlia della situazione ereditata dall'attuale governo. Gli interventi della Roma Pescara stanno risentendo del ritardo dell'iter che doveva concludersi entro giugno del 2022 con l'avvio della gara ad agosto dello stesso anno e l'aggiudicazione a febbraio di quest'anno. Non rinunciamo all'infrastruttura, puntualizzato anche il Vice Ministro di Fratelli d'Italia e Trasporti, Galeazzo Bignami. Non è una sorpresa la notizia che i primi due lotti non troveranno copertura con i fondi del PNRR. I ritardi nella procedura non sono imputabili a questo governo. Parole che non sono servite ad arginare le forti critiche del PD e del Movimento 5 Stelle. È solo propaganda, dicono. Silvio Paolucci ha sottolineato lo sgambetto politico di Matteo Salvini, titolare delle infrastrutture al governo e leader della Lega, nei confronti del governatore abruzzese molto vicino a Giorgia Meloni. Ammettere a nudo Marsilio è lo stesso Salvini che toglie le risorse e nulla dice sui tempi e sulla copertura dei progetti che restano fuori. Per la Roma Pescara servono almeno 5,6 miliardi e non si capisce dove saranno reperite tutte le risorse e con quali tempi. E anche in Molise non mancano le polemiche sulla riprogrammazione dei fondi del PNRR. Il Molise non può permettersi di perdere nemmeno un euro. Il presidente della regione Francesco Roberti non sia prono alle decisioni romane, sottolinea la consigliera regionale del Partito Democratico Michela Fanelli, in base alla bozza di proposta per la revisione del PNRR. Su tutto il territorio nazionale, dice Fanelli, vengono meno 414 case di comunità e 96 ospedali di comunità. Il presidente Roberti chieda l'UMI ad un governo amico e soprattutto faccia sentire la voce dei cittadini molisani. Andiamo a Castel di Sangro dove poco prima del 14 è arrivato il pullman dei campioni d'Italia del Napoli. Da oggi inizia il ritiro della formazione di Ruti Garzia in Abruzzo. E in Abruzzo per noi c'è in diretta il collega Nicola De Santis. Allora Nicola, buon pomeriggio. Quali sono le ultimissime notizie? Buon pomeriggio Piero, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Teleregione. Come dicevi giustamente tu, il pullman del Napoli è arrivato circa 20 minuti fa qui nell'albergo di Rivisondoli che ospiterà la squadra fino al termine del ritiro. Dormiranno qui a Rivisondoli e invece poi si sposteranno al Teofilo Patini di Castel di Sangro per le amichevoli e per ovviamente le sedute di allenamento. C'è un protocollo rigidissimo qui in Abruzzo, nell'Alto Sangro, un cordone che avvolge il Napoli. Pensate che stamattina ben presso eravamo arrivati nei pressi dell'albergo. Siamo stati allontanati insieme ai tifosi, agli altri giornalisti, alle altre truppe perché praticamente la strada di accesso all'albergo è completamente preclusa al transito sia pedonale sia veicolare. Vi dico questo solo per farvi capire quali sono le straordinarie misure di sicurezza che sono state adottate dalla prefettura qui nella zona di Castel di Sangro per garantire in qualche modo la privacy del Napoli. Ed allora dopo la parentesi di Dimaro la formazione azzurra è giunta qui a Rivisondoli. Vi do qualche numero solo per darvi l'idea dell'evento. Sono attesi 15.000 tifosi circa al giorno per le amichevoli ed anche per le sedute di allenamento quasi tutte a porte aperte salvo rarissime eccezioni a porte chiuse col tecnico che ha ovviamente provato a ovattare la squadra vietando pochissime sedute di allenamento. Dicevamo 50 unità per quanto riguarda la security a disposizione del Napoli notte e giorno e poi 150 persone tra polizia, carabinieri e guardia di finanza a presidiare la zona. Vi ricordiamo anche le amichevoli. Si inizia sabato a Castel di Sangro con la Taispor, una squadra della massima serie turca. Mercoledì invece in programma Napoli-Girona. Girona una formazione della Liga. Domenica 6 agosto Napoli-Azburg, team della Bundesliga. Infine venerdì 11 Napoli-Apollon-Limasol, formazione del massimo campionato di Cipro. Dicevamo dunque la squadra è arrivata ora in albergo. Dopo un pranzo veloce, la sistemazione in camera, si sposterà a Castel di Sangro per la prima seduta di allenamento a porte aperte. Domenica a Castel di Sangro in programma una grande festa per lo scudetto organizzata dai Napoli Club d'Abruzzo. E poi sabato 5 agosto c'è grande attesa anche per il concerto di Gigi d'Alessio, un concerto che vuole celebrare il Napoli qui sulle montagne abruzzesi. Al Palasport di Castel di Sangro è stata portata in esposizione la coppa dello scudetto e sempre al Palasport ci saranno poi le conferenze stampa sia del tecnico sia dei vari atleti che saranno messi a disposizione dell'ufficio stampa. Stamattina abbiamo intervistato alcuni tifosi partenopei che hanno tentato di avvicinarsi all'albergo e sono stati poi costretti a sistemarsi a un chilometro e mezzo dalla struttura. Allora, se la regia ha pronto il contributo siamo pronti per mandarlo in onda. Chi sei venuto a vedere qui? Chi sei venuto a vedere? Chi vuoi vedere? Che calcio tu? La Udiamen. La Udiamen. Anche il papà è tifoso di Udiamen? Sì, di tutta la squadra, tifosissimi. Voi siete qui in vacanza? No, no, siamo qui oggi a fare una passeggiata proprio per aspettare i campioni d'Italia. Per salutare insomma il passaggio del pulmo? Sì, 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 per fare un saluto ai campioni. Che ambiente ha trovato qui in Abruzzo? Molto caloroso, bello come sempre. Eh sì, la strada signora ha visto è stata chiusa. Sì, infatti. Forse per ordine del prefetto, d'accordo con il calcio Napoli, però penalizzano un po' i tifosi che hanno fatto centinaia di chilometri per arrivare qui. Per i bimbi soprattutto, per lui che voleva vedere i calciatori. Ha rivisodolo in vacanza per stare vicino ai suoi beniamini? Sì, no, per stare vicino al Napoli, vicino alla squadra, perché lui è tifosissimo, mio figlio, e ci teneva tanto ad essere anche quest'anno vicino alla squadra. Questa strada è stata chiusa, non ci si può neanche avvicinare all'albergo, è dispiaciuto? Eh, un pochettino sì, però magari noi ci proviamo sempre, poi vediamo. Un saluto e andiamo via. Manca ancora qualcosina in organico? Eh, chiaramente bisogna sostituire Kim, però penso sicuramente che il Presidente farà degli acquisti, sicuramente comprerà qualcuno di preparato, insomma, qualcuno che potrà sostituire Kim al meglio. Osimane resta? Osimane credo di sì, si muoverà, come ha detto anche il Presidente, solo per un'offerta sparaonica, quindi penso almeno 180-190 milioni, altrimenti resterà sicuramente con noi. Ci porterà alla vittoria anche quest'anno. Per quanto riguarda la prossima stagione, ugualmente fiducioso? Assolutamente sì, se la squadra resta questa non si può che essere fiduciosi, anche perché dicono il Napoli ha cambiato il Tecno, sì, ma io non vedo che le nostre concorrenti si siano rinforzate per poter essere realmente un problema, ecco. Un difensore lo gradirebbe? Sì, assolutamente, per sostituire Kim, però ci fidiamo del Presidente e quando dovrà annunciarlo lo annuncerà. Allora, in vacanza a Rivisondoli, anche per seguire il Napoli? Sì, io perché vengo qua da tanti anni, ho pure la casa e poi sapendo che c'era il Napoli è un motivo in più per venire. Emozionato? Eh sì, è avvenuto anche l'anno scorso, quindi è bello, è bello. Un papà che ha portato la prole all'arrivo del Napoli? Sì, in effetti è un desiderio suo, poi il 24 è stato il suo compleanno e abbiamo cercato di accontentarlo alla miglia maniera. Come regalo di compleanno una visita al ritiro del Napoli? Sì, sì, al ritiro, anche che negli anni passati ha cercato sempre di andare, solo che non c'è stata la possibilità. Alla fine comunque ci siamo riusciti e l'abbiamo portato, sì. Sei contento per il regalo di tuo padre? Tantissimo, un'emozione che da tanto tempo provavo e quando non ho saputo sono scoppiato in lacrime. Senti, sarà difficile ripetere il campionato appena concluso, però sei fiducioso? Sono fiducioso e spero che arrivi un difensore come Akim che ci riesca di nuovo a far vivere questo sogno. Lei fiducioso per la prossima stagione? Certo, bisogna avere sempre fiducia poi alla fine perché le cose vengono mano a mano. Abbiamo vinto questo scudetto, possiamo anche cercare di mantenerlo per l'anno prossimo. I tifosi che si fidano del presidente De Laurentiis è una notizia potenza del calcio dopo tante critiche. Ora c'è fiducia. Torniamo da Nicola De Santis. Nicola, velocemente abbiamo capito che la zona intorno all'hotel è super blindata, mentre a tutti coloro che ci seguono da casa vogliamo ricordare come fare per seguire gli allenamenti, come recarsi al patini? Sì, il sindaco proprio ieri ai nostri microfoni consigliava di parcheggiare, di posteggiare le vetture nei pressi della zona commerciale di Castelli Sangro e poi percorrere i 300-400 metri che separano la zona commerciale da quella degli impianti sportivi in maniera tale da non creare ingorgo nei pressi del patini. Un'altra notizia che ha di sportivo davvero poco. Nel pomeriggio era in programma un amichevole tra Bari e Lluvestabia, sempre qui in Alto Sangro. Ebbene è stata annullata dalle autorità perché ci sono state schermaglie nel prepartita tra le due tifoserie. Quindi per questioni di ordine pubblico addirittura è stata annullata una gara amichevole. e questa è senz'altro una considerazione molto molto triste. Se non ci sono domande, Piero, io restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie Nicola e buon lavoro a Castelli Sangro. Cambiamo argomento. Mari e laghi molisani sono puliti, Legambiente e Goletta Verde promuovono le acque della regione. Miglioramenti importanti alla foce del Trigno hanno detto nel presentare i risultati del monitoraggio. Sentiamo tutto. Mari e laghi molisani godono di buona salute. Disco Verde da Legambiente e Goletta Verde dopo il monitoraggio dei campionamenti effettuati lungo le coste e le acque interne. Tre punti del litorale sotto controllo. La spiaggia Sant'Antonio e la foce del Sinarca a Termoli e la foce del Fiume Trigno nel comune di Montenero di Bisaccia. Tutti e tre sono risultati entro i limiti. Un ottimo risultato, visto che l'anno scorso il punto della foce del Fiume Trigno era risultato fortemente inquinato. Promossi anche i campioni prelevati nel comune di Chiauci in provincia di Sernia. Il primo è stato prelevato in località Civitelle, presso la Diga, il secondo in località Fonte Casale, nel corso del Fiume Trigno. I dati sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta al porto di Termoli e nella quale il collega Emanuele Bracone ha raccolto le impressioni dei protagonisti con le immagini di Nicola Mastro Giuseppe. Quest'anno i tre punti che abbiamo monitorato con i nostri tecnici sono risultati tutti entro i limiti di legge. Alcuni punti per poco sono risultati entro i limiti di legge e quindi questo ci induce comunque a non abbassare la guardia e lo ripetiamo, i nostri sono comunque un'istantanea del periodo in cui siamo passati e quindi bisognerà continuare a monitorare, a controllare, però possiamo dire che anche gli investimenti fatti nel campo della depurazione cominciano a dare i frutti. Il presidente di Legambiente Molise, Andrea De Marco, ha evidenziato il netto miglioramento della qualità delle acque alla foce del fiume Trigno. C'è un risultato molto confortante riguardo alla foce del Trigno, ma riguardo alla foce del Sinarca, sebbene siamo entro i limiti, abbiamo comunque 420 unità formanti colonie di Escheri e Chiacoli a fronte del limite minimo che segnala la foce inquinata di 500. Quindi, come diceva prima il presidente di Legambiente Molise, Andrea De Marco, questa è solo una fotografia istantanea e dobbiamo tenere sotto controllo la situazione anche nei prossimi anni. Ma se oggi mari e fiumi sono puliti è anche grazie ai passi in avanti compiuti dal punto di vista del funzionamento degli impianti di depurazione. Per quanto riguarda il Molise, devo dire che anche per noi l'anno 2022 e quest'anno 2023 è stato un anno importante perché abbiamo iniziato a vedere effettivamente un avvicinamento al mondo, tra virgolette, della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare sempre più attiva. La cronaca incidente nei campi con un epilogo drammatico per un agricoltore di 61 anni. L'uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando a Nocciano, comune della provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione, era intento ad effettuare lavori di sbancamento terra quando nel fare una salita rapida ha perso il controllo del mezzo agricolo che lo ha travolto inutili i soccorsi. E furto flash la notte scorsa al Bar Europa di Campobasso, un'attività commerciale molto nota. I ladri sono stati messi in fuga dagli stessi proprietari, entrati nell'attività da una scala interna. Sono in corso le indagini. Sentiamo tutto da Alessandro Adamo. Furto flash al Bar Europa di Contrada Colle delle Api di Campobasso dove una banda di ladri professionisti esperte in furti all'interno di attività commerciali si è introdotta nel bar alle ore 3.22 del mattino. Una volta forzata la porta, per loro l'amara scoperta. L'allarme infatti ha avvertito i proprietari che attraverso una scala interna hanno avuto immediato accesso al bar mandando in fuga i ladri. L'obiettivo dei malviventi, le sigarette, i gratte e vinci, un furto durato ben poco, una manciata di minuti, attivi sistemi di videosorveglianza fondamentali per la ricostruzione della dinamica e per l'identificazione dei malviventi. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati in quattro ad agire dall'interno e uno dall'esterno come palo. La banda sembrerebbe non essere del luogo. L'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine che oltre ad aver effettuato dei rilievi sul luogo hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Le indagini sono ancora in corso. Resta alta l'attenzione. Nelle ultime settimane si sono registrati diversi furti nel territorio di Campobasso. Sequestrato uno stabilimento balneare totalmente abusivo a Monte Nero di Bisaccia. I sigilli sono scattati al termine delle verifiche degli uomini della Guardia Costiera. I militari hanno posto sotto sequestro numerose attrezzature balneari, strutture ombreggianti, camminamenti e un prefabbricato utilizzato come bar. È stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica a un altro operatore turistico per aver occupato abusivamente una piccola area demaniale. Salumi non a norma. 12 ditte multate dal gruppo Carabinieri Forestale di Chieti. Circa 18 mila euro l'importo delle sanzioni elevate al termine dei controlli. I militari hanno scoperto in ventita presso supermercati della provincia di Chieti alcune confezioni preimballate di salumi sotto vuoto in vaschette o in budello che non rispettavano la normativa nazionale in ordine alla corretta etichettatura dei prodotti a base di carne. Gli uomini del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale hanno accertato che molti salumi realizzati in laboratori italiani non riportavano le indicazioni previste dalla legge. Ed ora andiamo a Pescara. Accoglierà senza tetto ed emarginati la villa di via Tavo sequestrata alla criminalità organizzata. Sentiamo tutto dal contributo. Diventerà un luogo di accoglienza e assistenza per senza tetto ed emarginati la villa su due piani confiscata alla criminalità e costruita in stile Casa Monica in via Tavo a Pescara. Lo stabile sarà il fulcro del progetto di housing temporaneo che consentirà a persone in difficoltà e in grave stato di indigenza di trovare un ricovero ma soprattutto di tornare a programmare una vita normale come è stato detto nel corso della conferenza stampa promossa dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore alle politiche sociali a Delchi sul plizio in occasione del via ai lavori di recupero dell'immobile. Uniamo legalità a sociale perché questa struttura confiscata dalla criminalità organizzata viene riconvertita a spazio dedicato a coloro che hanno bisogno a coloro che chiedono la mano tese il comune è sempre pronto ad aiutare gli ultimi. La villa di via Tavo sarà ristrutturata con un intervento finanziario di 828 mila euro di cui 710 mila derivanti dal piano nazionale di riprese e resilienza. Al primo piano ci saranno spazi che accoglieranno 6 o 7 persone per l'Housing First al piano terra con un altro progetto finanziato parallelamente sorgerà una centrale operativa del pronto intervento sociale che sarà attiva H24 per soccorrere e aiutare persone che vivono per strada e si trovano nella difficoltà più estrema. In questa struttura avremo assistenza per persone che invece vogliono un'abitazione per poter vivere serenamente e tranquillamente a ricominciare un percorso di vita normale. Sono stati presentati i risultati di Spazio Lavoro Futuro un progetto volto all'inclusione di soggetti svantaggiati sono circa 60 i beneficiari che hanno portato a compimento l'iter e che sono stati inseriti in aziende della provincia di Teramo. Ci riferisce tutto Chiara Donanti. Sentite. Terminato Spazio Lavoro Futuro con capofila la comunità montana è promosso dalla Regione Abruzzo un progetto dedicato all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che ha visto circa 180 utenti impegnati e ben 60 che hanno portato a compimento il percorso per le qualifiche professionali. Successivamente sono stati accompagnati in tirocini formativi retibuiti all'interno di aziende del territorio Teramano. Progettata anche la riqualificazione del centro turistico polivalente di Tossicia. Sicuramente è un'opportunità per tutti gli utenti che hanno partecipato al progetto, a questo progetto sperimentale agora che noi abbiamo voluto chiamare proprio Spazio Lavoro Futuro proprio per ripensare il futuro di quello che può essere il nostro sviluppo socio-economico. È un'attività che ha portato ad avere quasi 60 soggetti che hanno sperimentato il percorso e che sono parte attiva di una progettazione e programmazione che abbiamo sviluppato a livello territoriale non solo per il potenziale sviluppo delle aree interne ma di tutta la provincia di Tera. Un progetto che comunque è volto all'inclusione sociale è un filone che la Regione comunque sta prendendo di volta in volta sempre di più. Sì, è un progetto importante e innovativo che come Regione Abruzzo e come Dipartimento Sociale abbiamo voluto fortemente per combattere lo stato di povertà e l'esclusione sociale. Sono molto soddisfatto come assessore delle politiche sociali perché di questo progetto che inizialmente avevano dovuto finanziare i 2 milioni abbiamo aumentato il budget appunto perché volevamo lo scorrimento gradatorio. Un progetto il cui auspicio è quello di rinnovarlo anche per il futuro perché appunto come diceva lei vogliamo assolutamente che in Abruzzo nessuno rimanga indietro e questa è la prova appunto che la sinergia tra enti questa associazione di scopo possa permettere a tante persone che hanno difficoltà di formarsi e di inserirsi nel mondo del lavoro però con una retribuzione anche nel momento della formazione e dell'orientamento. La politica molisana in attesa che il presidente della giunta Francesco Roberti nomini altri assessori per completare la squadra di governo dall'opposizione arrivano le prime critiche si fa sentire Massimo Romano che dice è facile alzare le tasse ai molisani sentiamolo ai nostri microfoni. Mi pare si sia partiti con il piede sbagliato se la soluzione ai problemi del Molise è quello di aumentare le tasse a tutti i molisani come dire non ci sarà dialogo perché è chiaro che non è una soluzione non ci volevano degli scienziati per partorire questa idea. Rialetto in consiglio regionale a capo della lista Costruire Democrazia è tornato a sedere nell'assise di Palazzo Daimmo dopo due legislature Massimo Romano è subito tranciano rispetto ai primi atti presi dal neogovernatore Francesco Roberti. Per l'avvocato Boianesi occorrono altre soluzioni per ridurre la spesa e ridurre i debiti del Molise. Ci occorremo perché si deve partire dal taglio della spesa improduttiva e dal recupero delle poste che invece non vengono recuperate da troppi anni e non invece dal mettere le mani nelle tasche dei molisani. Massimo Romano poi spiega cosa guiderà la sua azione in consiglio regionale. Credo che ci sia un lavoro importante da fare e lo faccio con la serietà che ha contraddistinto il mio progresso impegno politico e successivamente quello professionale. Rientro in consiglio con un bagaglio di esperienza maturata in dieci anni a strettissimo contatto e rapporto con tutte le criticità di questa regione sotto il profilo del rapporto con gli enti locali della sanità, del settore sociale, dell'istruzione e quindi proverò a farlo nella maniera migliore rappresentando una sponda non soltanto per gli elettori che ci hanno votato ma anche per tutti quelli che presto si accorgeranno che probabilmente la soluzione uscita dalle urne non è la migliore. Da Campobasso continua il percorso di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Sono terminati i lavori anche nell'edificio scolastico Igino Petrone, lo ha annunciato l'assessore comunale Simone Cretella. L'intervento ha riguardato la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul solaio di copertura dell'edificio e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con plafoniere LED ad alta efficienza dotate di sistemi di gestione intelligente del flusso luminoso. Un intervento che consentirà di evitare l'emissione di circa 8.500 kg di CO2 all'anno. E dopo 47 anni la comunità di Cerqueto Fano Adriano riaccoglie tra tanta commozione la statua linea della Madonna in trono con bambino del XIV secolo. Sentiamo ancora Chiara Bonatti. È stata restituita dopo 47 anni alla comunità di Cerqueto comune di Fano Adriano la statua linea della Madonna sul trono con bambino. Le indagini che hanno portato al rinvenimento dell'opera sono state condotte in sinergia tra il nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari e la Guardia di Finanza di Bitonto. Una grande soddisfazione anche per noi. Anzi, sono le occasioni in cui riusciamo ad avere la massima gratificazione della nostra attività. Peraltro restudiamo ad una comunità, una Madonna che mancava da Cerqueto a 47 anni. La cosa ci riempie davvero d'orgoglio. Un'importante giornata per la comunità e per la diocesi di Terramo Atri che dal 1976 rivede ora posizionata la statua linea del XIV secolo nella chiesa di Sant'Egidio a Bata Cerqueto. Una bellissima testimonianza di fede e soprattutto di partecipazione comunitaria. Cioè si percepite che oggi davvero questa comunità vuole camminare insieme e che percepisce la presenza di Maria come correi che accompagna la chiesa. Certamente di grande testimonianza dell'efficienza di tutte le autorità che hanno reso possibile questo ritorno. Però è anche davvero l'aspetto più importante in una comunità che nonostante le difficoltà si chiede di non perdere mai la speranza e questo è un segno importante perché soprattutto in questo territorio dove c'è il problema della diminuzione della popolazione di tutte le aree intere hanno bisogno di un rilancio io penso che esperienze come quelle che abbiamo vissuto oggi sono il vero segno che ci sono comunità sia pure numericamente piccole però che vogliono riscoprire le proprie tradizioni e soprattutto mettersi a servizio per rilanciare un territorio che ha delle potenzialità. Commossi cittadini di Cerqueto che dopo così tanto tempo vedono tornare al suo posto un riferimento importante per tutta la comunità. Questa è stata veramente una grande emozione dopo 47 anni di trovare questa statua del 1400 che ha visto proprio questa comunità crescere e l'ha accompagnata per secoli e quindi è un valore che è stato riconquistato che porta veramente alla comunità una devozione e un ringraziamento e una gratitudine che adesso si può ripetere e continuare per le nuove generazioni. Andiamo a Montagano dove il Comune e la Proloco hanno organizzato un cartellone estivo molto ricco si parte domani sera con la mostra fotografica di Cartoline d'Epoca il 26 agosto il Club con la Festa del Pomodoro. Un'estate ricca di eventi quella organizzata dall'amministrazione e dalla Proloco di Montagano si parte domani con una mostra molto particolare al centro dell'attenzione cartoline originali ristampate e riprodotte risalenti ai primi anni del secolo scorso e fino al 1999. Vogliamo riportare insomma un po' di passato ma non in senso nostalgico quanto invece attraverso appunto la funzione attiva e ricostruttiva dei ricordi di far sì che sia un ponte verso il futuro a tutto quello che ancora di meglio può esserci nella storia dell'uomo. Poi tanto altro eventi enogastronomici presentazioni di libri con la notte bianca del libro serate musicali jazz rock spettacoli teatrali fino al 2 settembre con la festa di fine estate. Abbiamo uno spettacolo sull'emigrazione e una sfilata di abiti da sposa che sfilerà per il corso di Montagano. L'evento clou il 26 agosto con la tradizionale apprezzata festa del pomodoro di Montagano un pomodoro speciale le cui qualità sono riconosciute in tutto il mondo. Il pomodoro di Montagano è speciale per le caratteristiche organolettiche è risaputo ormai che a parte il sapore che è molto più dolce e gradevolissimo anche per le qualità antiossidanti che il pomodoro di Montagano contiene. Andiamo all'Aquila dove il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha ospitato la presentazione dell'evento sportivo Ultra Maratona del Gran Sasso d'Italia 2023. Per noi c'era Sabrina Giangrande. È stata presentata all'Aquila in una conferenza stampa tenutasi in Consiglio regionale e l'Ultra Maratona del Gran Sasso d'Italia 2023. La 50 chilometri abruzzesi è arrivata quest'anno a circa 600 iscritti e prevede un percorso tutto su strada ma con panorami da trail. Lo splendido scenario sarà quello del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Partenza prevista per domenica 30 luglio alle ore 8.30 dal comune di Santo Stefano di Sessanio per poi attraversare Calascio, Castel del Monte, Valico la Serra, Fonte Vetica, La Piana di Campo Imperatore, Lago Racollo con arrivo presso il comune con vista panoramica su Santo Stefano di Sessanio. Ma ascoltiamo le dichiarazioni rilasciate dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Sant'Angelo e del direttore tecnico Franco Schiazza. Innanzitutto dobbiamo fare merito agli organizzatori che negli anni hanno portato alla dodicesima edizione oltre 570 persone a correre ma attraverso lo sport a visitare, a vedere, a vivere i nostri territori. tre amministrazioni comunali sono in gioco Castel del Monte, Calascio e Santo Stefano con il patrocino del parco quindi per noi è importante essere vicino a questo tipo di realtà che non sono solo attività agonistica ma sono anche promozione di un territorio del brand Abruzzo. La manifestazione è partita dal 2015 con 150 atleti siamo arrivati a 570 quindi un grosso incremento poi se ci mettiamo che dietro la maggior parte degli atleti vengono da fuori regione e si portano quasi tutti la famiglia perché il territorio è presto a portarsi la famiglia quindi diciamo 1500 persone che portano insomma turismo nel nostro territorio qualcosa di importante non solo sportivo. io credo che è il territorio che porta a fare ciò però chiaramente anche perché noi coccoliamo gli atleti chi viene a fare questa nostra gara ci ritorna sicuramente e vedete che c'è persone diciamo che l'ha fatto 5, 6, 7 volte questo perché trovano un ambiente diciamo familiare e quindi tutti cercano di ritornare. Bene questo era il nostro ultimo contributo ora linea alla regia vediamo che tempo farà domani sull'Abruzzo e sul Molise con il nostro meteo previsioni del tempo per sabato 29 luglio in Abruzzo tempo stabile ed assolato ovunque venti deboli mare poco mosso diamo uno sguardo alle temperature e tutto con questa edizione ora linea la regia consigli per gli acquisti l'informazione torna questa sera alle 19.30 potete seguirci anche sui social sulle nostre pagine ufficiali Instagram e Facebook ci vediamo tra pochissimo con la pagina sportiva parleremo del campo basso ascolteremo il super bomber Corvino parleremo anche dell'Isernia con le prime dichiarazioni del consulente di mercato Silvestri a tra poco siamo allo sport iniziamo con il calcio di serie D parliamo del campo basso conosciamo il super bomber dei lupi Vincenzo Corvino 17 gol lo scorso anno con il Fasano lo ha intervistato nelle scorse ore per noi Francesco Presutti sentite Vincenzo Corvino attaccante di grande esperienza Vincenzo l'anno scorso 17 gol a Fasano tra l'altro due tifoserie gemellate quella del Fasano e quella del campo basso sì sono molto contento di aver fatto questa scelta anche perché mi sto trovando molto molto bene diciamo il mio biglietto di visita sono 17 gol spero quest'anno di superare il mio record ma tu hai alle spalle tantissime reti con tante squadre soprattutto pugliesi non solo però soprattutto pugliesi Vincenzo sì sì la maggior parte della mia carriera l'ho fatta in Puglia dove comunque ho sempre raggiunto la doppia cifra diciamo che il mio primo obiettivo personale è raggiungere la doppia cifra quanto prima possibile e poi togliermi qualche soddisfazione sai si parla sempre di piazza Campobasso piazza importante piazza esigente però poi alla fine una squadra diciamo è fatta soprattutto da una stabilità societaria quella che è mancata ultimamente qui in città quindi quest'anno c'è una proprietà statunitense vuole fare bene e ci sono grandi aspettative anche da parte dei tifosi sì sì ma è importante la società è troppo importante e onestamente mi hanno impressionato fin da subito e se ho scelto Campobasso subito è proprio perché ho visto quanta fame ci hanno di far bene e soprattutto la voglia che avevano di portarmi qui ecco perché ho scelto subito Campobasso i supporters rosso-blu vogliono tornare in C ma vogliono restarci un bel po' però questa volta noi faremo di tutto vogliamo solo far bene pensiamo partire dopo partire senza molte pressioni però si sa stai qui squadra costruita per far bene e noi cerchiamo di far bene domenica dopo domenica certo poi sai benissimo che le variabili in una stagione sono tante quindi magari uno fa dei proclami si fanno dei progetti però poi il campo e tante altre cose decidono l'andamento di un campionato sì sì è così non c'è mai stata poche volte una squadra che inizio il campionato doveva vincere e vince il campionato c'è stato però non è mai facile vincere bisogna sudare pedalare sul campo e dare battaglia ogni domenica mi sembra che in questi primi giorni si è formato già un bel gruppo soprattutto tra voi senior e gli under sì è la cosa principale per me lo spadoio è una cosa proprio sagra se si vive bene dentro lo spadoio si esprime bene il calcio in campo da questi primi giorni si è capito che è così ancora il calcio di serie di nuovo acquisto per il Termoli i giallorossi di mister Martino si assicurano le prestazioni dell'attaccante extolentino 10 gol nella scorsa stagione Domenico Vitiello che va ad ampliare le opzioni offensive dei suoi per i bassomalisani domani test in famiglia per iniziare dunque la stagione e dalla serie D andiamo in eccellenza parliamo dell'Isernia il progetto era e resta ambizioso lo assicura il consulente di mercato del presidente Francesco Paolo Traisci abbiamo intervistato Antonio Silvestri che annuncia la conferma del centrocampista Cascio e annuncia anche l'acquisto di un nuovo metodista argentino sentite L'Isernia San Leucio sarà tra le protagoniste del prossimo torneo di eccellenza lo assicura il consulente di mercato del presidente Francesco Paolo Traisci ai nostri microfoni Antonio Silvestri conferma la bontà del progetto tecnico e le ambizioni del club noi faremo del nostro meglio di sicuro la società ha sempre giocato dei campionati importanti in questi anni l'anno scorso diciamo hanno sfiorato il primato quest'anno tenteremo di fare un campionato importante e di rimanere comunque nelle zone alte della classifica questo sì assolutamente faremo del nostro meglio per raggiungere i massimi risultati per realizzare il sogno per la piazza il primo colpo dell'esperto di mercato è la riconferma del centrocampista offensivo Facundo Cascio il secondo l'ingaggio del metodista Ivan Regner argentino classe 1989 tanta di ed eccellenza nella sua lunga carriera di sicuro i giovani di qualità ci saranno ci saranno comunque si farà anche uso del gruppo che è la società dei giovani che comunque si darà spazio anche al loro gruppo giovane poi verranno anche inseriti i giocatori diciamo di importanza diciamo che dei giocatori che abbiamo verrà riconfermato di sicuro Facundo Cascio che già è stato riconfermato e farà parte di questo gruppo anche per quest'anno calcistico e poi ci sarà l'inserimento di un nuovo giocatore di esperienza che è un classe 89 Ivan Regner che è un trequartista che può fare anche la seconda punta che ha fatto la serie A in Argentina e ha giocato già da 10-11 anni qui in Italia ha fatto tra serie D eccellenza pugliese parliamo di giocatore diciamo di assoluta fama è un calciatore importante che ha dato la sua esperienza e i grandi risultati nell'eccellenza pugliese l'ultimo pensiero di Silvestri è per i tifosi bianco celesti quello che mi sento di promettere comunque ai tifosi e alla città è che noi punteremo al massimo cercheremo di dare il massimo di dare grandissima soddisfazione a questa piazza e di fare tutto ciò che loro meritano l'eccellenza anche in chiusura pare schiarirsi la situazione in casa dell'Olimpia agnonese l'assemblea pubblica di mercoledì sera infatti ha definito la certezza dell'iscrizione al torneo di eccellenza per il team Granata il primo agosto nuovo appuntamento pubblico per definire le prospettive in vista del nuovo campionato anche se notizie di non molto tempo fa non ci sarà sulla panchina Granata il tecnico dello scorso anno una persona di grande spessore umano e professionale parliamo ovviamente di Antonio Dalloi bene è tutto anche con lo sport grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie a tutti